Buongiorno, eh, buongiorno scusate, eh, amici youtuber, ma mi conoscete perché ho fatto tantissimi video, mi sono pure appassionato adesso a, non so se vedete bene, gli Scooby-Doo, questo qui è lo Scooby-Doo, e ora vi insegno come si possono fare, come io ho imparato, perché io ho imparato, se non ho imparato, ora voglio rubare i lavori di arti, no, scherzo, scherzo, allora, prima cosa, si possono invertire a te due colori, Allora, questo qui, devo prendere, e devo, scusate, aspetta, per l'altro attimo, che ve lo avvicino, scusate, per interruzione, solo che non ho molto spazio questa scrivania, allora, ci sono quattro fili, io prendo un filo, lo faccio andare di qua, prendo questo, e lo faccio andare di qua, questo, faccio andare di qua, Poi, questo qua, lo faccio passare nel primo che ho fatto, prendo, e tiro, tiro un po' qui, tiro un po' qui, tiro un po' qui, un po' qui, e vedete che dopo qualche centinaia di cose lo sapete fare, quindi, ripetiamo, questo passo sul filo, questo, sul secondo, questo, al quarto, e questo, guardate, Passo sul primo filo che abbiamo creato, questo, è un colore, cioè, acceso, però, non è molto, perché, non si nota tanto, invece, ora vi faccio vedere quello che ho fatto io, ce n'ho tipo 20, Aspetta, aspettate un attimo che ti prendo, e allora, questo qui si vede di più, si vede, se lo vedete, lo vedete, di più, oppure, questo qua si ti faccia molto meno, eh ok di me questo ciao ciao